Amici di DDI Prof, benvenuti nel nostro terzo appuntamento con Genialy. Oggi dopo aver visto le infografiche, dopo aver visto il mio primo video e le presentazioni, andiamo a vedere insieme come possiamo costruire un'immagine interattiva che può essere utile in didattica in tutte le materie. Immagino lingue alla primaria, all'infanzia, ma anche alle superiori. Veramente è un qualcosa poliedrico che può servire a tutti noi. Adesso prima di andare a vedere insieme il nostro lavoro facciamo un mi piace per il video ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella in basso. Ma adesso andiamo a vedere insieme Genialy. Una volta che avrete fatto il vostro login in Genialy andate a crearne uno sempre con Create Genialy. Le immagini interattive si trovano qui sotto le presentazioni, quindi andate su Crea Immagine Interattiva e vi renderete conto, scorrendo verso il basso subito, che qualcosa è cambiato. Nel senso che non abbiamo tutti gli esempi di template che potevamo avere per gli altri, sono molti ma molti di meno. Soprattutto se noi andiamo a cliccare su uno di questi esempi ci rendiamo conto che non possiamo utilizzarlo. Non compare il tastino in basso, usa questo template. Sono delle immagini interattive di esempio, esemplificative. Queste per esempio sulle Alpi hanno vari tasti interattivi che io posso andare a consultare, addirittura una geolocalizzazione con Google Maps, molto carino come immagine per geografia penso, e farci capire le potenzialità delle immagini interattive. Quindi quello che dovrò fare sarà preparare la mia immagine interattiva, anche perché essendo una mia lezione è molto difficile che io posso trovare un template adatto a quello che devo fare. Quindi è giusto che saremo noi a creare e a caricare l'immagine o a mettere un link. Andate quindi su crea immagine interattiva. Vedete che vi dà la possibilità di portare sempre il file dal vostro computer oppure mettere il link dell'immagine stessa o se ce l'avete da Google Drive. Io vado a prendere l'immagine di questo vulcano, così creiamo un file interattivo dei vulcani, vado a incollare qui l'immagine e gli do l'invio e vedete che lui me la mette in una posizione nella quale poi andrò a scegliermela. Scelgo quindi l'immagine che voglio per il mio lavoro e mi chiederà di lavorare sull'immagine, cioè posso scegliere che cosa ci deve essere di questa immagine, tutto oppure tagliarne dei pezzi o metterla in posizioni diverse. Vado quindi ad accettare l'immagine, ci metterà un attimo a caricare perché la sta già rendendo interattiva. Vedrete che adesso che avrà finito di caricare, vedete ci sono già dei puntini, ora facciamo uno zoom e andiamo a vederli. Ci sono due puntini che ha già preimpostato e sono le icone interattive chiamate Interactive Elements qui sulla sinistra. Queste sono le icone che renderanno la vostra immagine interattiva al 100%. Noi possiamo ottenere queste che ci sono state fornite di base da Genialy oppure andando a cliccare su queste icone andiamo letteralmente a cestinarle perché non ci piacciono o magari non sono di nostro gusto. Che cosa dovrò fare? Beh, prima di tutto darei un titolo, quindi andiamo a mettere del testo, diamo un titolo, Vulcani, lo centriamo, ricordate che in alto avete tutta la barra del testo utilizzabile come tutto ciò che è stato finora visto, quindi un testo veramente interattivo, gli diamo una misura un po' più grande al titolo e anche un colore diverso. Dopodiché vado a spostarla, posso metterla magari qui e posso darle un'animazione. Vediamo un'animazione in zoom di ingresso, così chi aprirà questa immagine e ne avrà la sua animazione di ingresso. E andiamo subito a rendere interattiva la nostra immagine. Andiamo quindi sugli elementi interattivi di Genialy e vedete che abbiamo molte più opzioni di quelle che ci compaiono, non ve lo dimenticate mai, questi sono solo gli esempi primari che Genialy vi offre come icone interattive. Voi potete andare su Show More oppure andare a cercare con il tastino più e vi porta tutte le icone possibili. Andiamo a prendere un'icona che ci può essere di aiuto, anche carina questa con le montagne, e se il colore grigio di questa icona non ci soddisfa, ricordatevi che qui in alto avete la tavolozza dei colori e potete andare a variare il colore della vostra icona. Abbiamo un'animazione di ingresso, sempre in zoom, come la scritta stessa all'animazione, sempre qui sul tasto dell'interattività e questa volta invece di creare un piccolo contenuto, con tutto tipo una finestra intera come argomentazione, vado a inserire il link di una pagina web, quindi mando direttamente i miei alunni a una pagina web che riguarda i vulcani. Quindi andrò proprio qui sul link e vedete che mi dice vuoi che il link sia aperto in una nuova pagina o nella stessa pagina dei Geniali, apre come finestrella. Qui dovrò inserire il link del sito, andiamo a vedere se c'è qualcosa sui vulcani. Ricordavo la lezione di Focus Junior che è molto carina e quindi a questo punto io prendo la pagina di Focus Junior come pagina di contenuto iniziale, quindi vado a copiarmi quello che è il link di Focus Junior e lo inserirò proprio nella barra qui dove serve. Do l'invio e gli dico di aprirlo in una nuova pagina di modo che i ragazzi vadano a consultarsela in tutto per tutto. A questo punto la nostra icona interattiva è già pronta per essere cliccata. Come sempre se abbiamo bisogno di vedere come sta avvenendo il nostro lavoro andiamo sull'occhietto in alto ci darà la presentazione, vedete, di quello che abbiamo fatto finora con l'animazione e cliccando sul tastino mi apre proprio la pagina di Focus Junior che abbiamo inserito. Ok, torniamo all'editing e andiamo a vedere come fare le varie parti del vulcani. Quindi per quanto riguarda magari i lapilli e l'esplosione e i gas possiamo andare a mettere un'immagine interattiva. Ricordatevi che potete fare anche una ricerca dell'immagine interattiva. Quindi io posso mettere Windows e lui non trova nulla. Mettendo Image mi trova la classica immagine. Mettiamo un'immagine di questo tipo, andiamo a posizionarla sui lapilli. Gli cambieremo il colore per renderla magari più visibile. E poi andiamo a dargli l'animazione sempre di ingresso e l'interattività. Ok? Ora andiamo a sceglierci però che cos'è che vogliamo dare come immagine. Possiamo anche inserire... Andiamo a cercare su Google un'immagine dell'esplosione di lapilli che possa essere buona e farci ben comprendere che cos'è un'esplosione vulcana. Ecco, questa è una foto storica, anche molto bella. Vado a prendere l'indirizzo dell'immagine in questo caso e vado a inserirlo questa volta sempre come link ma non come nuova tab ma come finestrella sul mio stesso Genialy. Andiamo a vedere che cos'è che viene fuori andando sempre sull'occhietto per capire come sta avvenendo il nostro Genialy. Vado quindi sull'icona, ci clicco sopra e lui mi porta su Genialy stesso l'immagine dei vulcano che abbiamo visto prima. Possiamo tornare indietro e ritornare al nostro Genialy. Allora, che cos'altro possiamo andare a mettere? Tutto. Ok? Possiamo andare a mettere un video quindi caricheremo la classica icona di YouTube facciamo uno zoom eccola qui la spostiamo magari un po' più a destra e andiamo a inserire il nostro video di YouTube che riguardi l'esplosione di un vulcano o la descrizione di tutte le parti di un vulcano che vanno dalla camera matematica fino a quelli che sono Camino e quant'altro. Io mi recco quindi su YouTube in questo caso e vado a cercarmi i vulcani per la scuola ok andiamo a prendere un video più o meno conosciuto sui vulcani prenderò il link sempre del mio video sui vulcani e andrò a inserirlo nella parte interattiva questa volta magari come finestra ricordatevi sempre che possiamo inserire il video in una finestra partendo proprio dalla telecamerina insert video vedete che ci dice incolla qui l'URL o addirittura andare a mettere il codice HTML come abbiamo visto in un video precedente quindi io vado a incollare qui il mio video lo inserisco ed è pronto nella finestra a essere visto magari facciamo una finestra media per non occupare troppo spazio e qui il nostro video è stato fatto io posso andare a scrivere qui sull'immagine un testo come abbiamo fatto prima quindi prendo un titolo e scrivo camera magmatica gli do sempre un colore questa volta visto che sul marrone utilizziamo il giallo così sarà più leggibile ok e vedete che anche la scritta può essere fatta come testo interattivo quindi la scritta nel momento in cui l'alunno passerà sulla scritta avrà la possibilità di cliccare di avere maggiori informazioni sulla camera magmatica a questo punto vedete che la nostra immagine sta prendendo veramente forma e sta divenendo sempre di più un'immagine interattiva come sempre quando tutto è pronto di questa immagine potrete poi condividerla con i vostri alunni ricordatevi che potete incaricare delle immagini stesse su quest'altra immagine oppure caricare anche delle statistiche in smart blocks potete andare a caricare i vulcani più pericolosi del mondo e quant'altro per questa parte però rimando a un altro video perché poi dobbiamo andare a modificare alcuni dati quello che possiamo fare ancora è usare questa immagine all'interno di un altro genere cioè io posso usare il link di questa immagine una volta che l'avrò condivisa lo metto riusabile che può essere fatto su tutti i profili gli do sempre il titolo e gli dico che è tutto ok una volta che io ho detto che è tutto ok vedete che posso condividere il mio geniali sempre tramite link tramite un codice mandarlo via email ma ricordatevi sempre su others io vado direttamente su google classroom e condivido automaticamente la mia lezione sui vulcani con i miei alunni se invece voglio mettere questa immagine interattiva all'interno di un altro geniali semplicemente copierò il link vado su un altro geniali qualsiasi che io stavo creando magari un geniali che riguarda tutto il fenomeno del vulcanesimo quindi le zolle quindi tutto ciò che è terremoti maremoti e quant'altro vado a creare il mio geniali la mia presentazione quello che volete e ricordatevi che su una presentazione qualsiasi io posso poi andare a inserire adesso usiamo solo una pagina di questa presentazione ok, io posso andare a inserire l'immagine che abbiamo visto prima ok, immaginate che questa sia una presentazione di geografia che riguardi tutto quello che è il movimento terrestre vado a inserire o un elemento interattivo proprio con il dittino del click magari o dell'occhietto lo ingrandisco anche se può servire lo cambio in quanto a colore e vado a renderlo interattivo come? semplicemente con il link dell'immagine che avevo prima quindi vi dico di aprirlo sempre su Geniali incollo la mia immagine interattiva qui e vado a salvare vediamo come può venire a questo punto andando sull'occhietto quindi avrò la mia presentazione ho quest'icona interattiva nella quale cliccandoci su automaticamente mi apre l'immagine che abbiamo fatto prima rendendo quindi Geniali una struttura veramente totale e una struttura veramente interattiva con se stessa e con i nostri alunni non solo una volta che ho fatto questo posso aggiungerlo come immagine ma posso aggiungerlo anche come finestra perché io posso decidere che questa interattività invece di dargliela come link gliela do come finestra e aggiungo qui il mio link dell'immagine che abbiamo inserito prima ora posso sempre andare a inserire il codice se l'ho preso nell'immagine del vulcano ma se clicco qui dove ho già inserito il mio link vedete che prende questo codice ce n'è un altro quindi dovrete andare a cancellare questo e mettere il codice giusto a questo punto possiamo andare a vedere nulla di che mi aprirà una finestrella nella quale c'è il link al quale poi mi rimanda sempre all'immagine che abbiamo creato in precedenza quindi la possibilità di creare immagini interattive con Geniali è veramente totale e serve per tantissime cose immaginate una lezione di lingue immaginate una lezione con i vostri alluni della primaria o dell'infanzia immaginate una lezione anche alle superiori io lo sto usando per esempio per delle bellissime presentazioni di immagini interattive che i ragazzi stanno facendo sui tre regni della Divina Commedia di Dante se il video vi è piaciuto mettete sempre un mi piace iscrivetevi al canale e al prossimo video arrivederci